Oggi avevo fatto solo un'ora e mezza di allenamento con la barca, ti dico mi sono divertito tantissimo, di bolina venendo dal fin non avevo assolutamente problemi ad andare, mi divertivo, l'unico problema era un po' in poppa, che col Genacher non sono abituato a portarlo, ero un po' incasinato, cercare di non scufiare nelle strambate, però come barca divertentissima, veloce e anche di facile apprendimento, si riesce subito ad andare, dar veloce no, però già subito a strambare, a rivirare senza fare troppi danni ed è veramente veramente bella. Rispetto al fin questa barca qua non è neanche pregonabile perché di bolina, con le terrazze che si regolano, più o meno hai un range di peso molto più ampio e non è così faticosa. Per me dico un easy sailing, mi sembra che sia come barca, però vedendo anche gli altri ragazzi che vanno, Andrea Magni, l'inglese così, anche loro si divertono e comunque oggi vento ce n'era, condizioni non erano facilissime con Honda e più o meno tutti avevano finito le prove, qualche scufia, però sono scufiato anch'io due o tre volte oggi quindi. Ho detto faccio un attimino retromarcia, solo che sono abituato col fin, non avendo la poppa mi si è affossata la barca di poppa, sono scufiato in partenza, tra l'altro ho scufiato con l'albero addosso a un concorrente che non so neanche chi sia, però sono stato fortunato perché l'ho rigirata subito, sono riuscito a ripartire e la bolina poi l'ho girata primo, quindi è andata benissimo. La prima prova era abbastanza semplice, il campo, diciamo il classico vento che c'è qua dall'asso, la seconda prova invece si è un po' bucato perché sono andate delle nuvole, è iniziato a bucarsi un po' sotto terra, vicino a terra, mentre sul lato sinistro del campo c'era molta più pressione, bisognava prendere una decisione subito dalla partenza o rigattare a sinistra o rigattare a destra, si stava nel mezzo, tanti ho visto che hanno perso perché non prendevano né le raffiche da destra né quelle da sinistra, rimaneva un po' nella zona dei buchi, però per regattare andava benissimo. Con il compiuto ci alterniamo, le boline giro io davanti, poi in poppa lui mi passa, poi di bolina lo passo io e poi mi ripassa in poppa, proprio anche lì si vede proprio la differenza, io vado su una barca con solo la randa, lui va con 49er, con randa, fiocco e gennaker, quando si mette in poppa col gennaker lui è il più veloce della flotta qua, già subito, dopo poche ore di allenamento è già uno dei più veloci.